Book 2 55 Lavorare Che lavoro fa? Mio marito è medico. Lavoro come infermiera part-time. Presto andremo in pensione. Ma le tasse sono alte. E l'assicurazione contro le malattie è costosa. Cosa vorresti fare? Io vorrei diventare ingegnere. Io vorrei diventare ingegnere. Io voglio studiare all'università. Io sono praticante. Non guadagno molto. Faccio un tirocinio all'estero. Faccio un tirocinio all'estero. Questo è il mio capo. Questo è il mio capo. Ho dei colleghi gentili. Ho dei colleghi simpatici. Ho dei colleghi gentili, simpatici. A mezzogiorno andiamo sempre in mensa. A mezzogiorno andiamo sempre in mensa. Cerco un posto di lavoro. Cerco un posto di lavoro. Sono disoccupato da un anno, ormai. Sono disoccupato da un anno, ormai. In questo paese ci sono troppi disoccupati. In questo paese ci sono troppi disoccupati.